È giunta alla sua quattordicesima edizione la festa della birra all'Irish Pub qui in Valle di Frusolone, una manifestazione che ogni anno vede la presenza di numerosi turisti provenienti dalla capitale romana. Non solo birra ma soprattutto buon cibo. Quest'anno sono due menù proposti, il primo a base di stinco di maiale, preparato a regola d'arte, secondo tradizione, il secondo caratterizzato dalle salsicce tipiche bavaresi, accompagnate da gustose patate al forno e crauti tedeschi. Questa è la quattordicesima edizione e come tutti gli anni cerchiamo di proporre una festa che possa divertire tutti e che possa rallegrare questo periodo. I piatti che proponiamo di solito sono uguali tutti gli anni, partiamo dallo stinco di maiale, il famoso stinco di maiale, accompagnato dalle patate e dai famosissimi crauti. E poi abbiamo un'alternativa che è un'alternativa bavarese, composta da viustel bavaresi, patate al forno e crauti. Un piatto che possa piacere soprattutto ai bambini o a persone che non preferiscono lo stinco. Alla festa si aggiunge l'appello dei proprietari del locale a bere responsabilmente ed invitano tutti gli ospiti ad essere presenti nella giornata di oggi e quella di domani. Ti ringraziamo tutti coloro che si organizzano per venire con i pullman soprattutto perché preferiscono bere in maniera prudente e non utilizzare le macchine e invogliamo anche noi, tutto lo staff del Queen Valley, a bere con prudenza e a fare attenzione nel caso si beva troppo.